buonasera amici di faner benvenuti in questa nuova giornata di lega serie a2 del calcio 8 dove si affrontano la fc spiraceto contro la rosa rossa shanghai apertura sulla sinistra cerca l'uno contro uno dribbling il destro che occasione per la rosa rossa con questo tiro deviato da un difessore che si infrange contro la traversa sarà quindi calcio d'angolo parola di tre piedi di padovani cerca il sinistro di michele senza però trovare lo specchio della porta pronto a partire con il destro cerca addirittura la conclusione largo alla destra del portiere di matteo apre le parti di cervalieri che cerca l'alcio lungo in mezzo colpo di testa il tiro luci scambia ancora con cacioli che prova al destro largo sulla destra del portiere cerca di michele che difende il fisico controlla dribbling di michele dribbling ancora di michele parata di ciarafoni che salva la propria squadra però mentre piede numero 4 che cerca la conclusione murato cacioli sul pallone il destro pronto a battere l'aspa davanti di michele difende il fisico prova al sinistro palo si salva la squadra ospite cervalieri che cerca cacioli il tiro ancora il numero 11 pallone fuori di un soffio parte il cross con il destro il colpo di testa e c'è il gol il vantaggio della rosa rossa con ambrosini che è saltato più in alto di tutti e ha messo il pallone all'incrocio dei pali cervalieri pallone lungo in avanti il colpo di testa di piarulli e c'è l'ottima copertura di merola che butta il pallone in calcio d'angolo recupera il pallone piarulli piarulli dribbling cerca la conclusione fuori di un soffio che cerca cacioli controlla apertura dalle partite anieli parata ma non è ancora finita l'azione cacioli raddoppia e chiude definitivamente la partita triplice fischio allo sport city 2 a 0 per la rosa rossa shanghai ademi 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 ademi